eccoci buongiorno a tutti e voilà oggi ancora più lusso sempre di più rockfeller e un assist niente guardate monte cristo leyenda linea 1935 l'anno in cui è stato creata la fabbrica di monte cristo abbiamo un super manufatto la linea più lussuosa di monte cristo 16 cm e mezzo per un ceppo di 55 foglia di fascia incredibile tesa perfetta lucida veramente e cosa con cosa lo abbiniamo vabbè maximum con maximum nuovo classic cat sesto imbottigliamento mccallan nel 2017 inizia questa collezione questo siamo al sesto la sesta release voilà